E arriva l'ennesima beffa per i pendolari che sui nuovi treni potranno utilizzare una sola carrozza. I consiglieri regionali PD Damiano Zoffoli e Thomas Casadei hanno presentato un'interrogazione e risposta scritta alla giunta regionale sulla riprogrammazione di treni decisa da Trenitalia. A disposizione dei pendolari della Romagna ci dovevano essere tre nuovi treni per e da Bologna dall'11 dicembre. Ma quanto pare gli intercity per Bologna e per Rimini che effettuano le fermate intermedie nelle stazioni di Cesena, Forlì e Faenza si sono rivelati una vera e propria beffa.